Eccocici per un'altra puntata di notizie sul gubbio, andiamo a leggere quella del 9 aprile che riguarda un sommario su tutte le partite. Gubbio, le ultime cinque tappe da trailing, il risultato dei recuperi del girone. Sino a giocare due recuperi del campionato di Lega Pro del girone B. Partiamo prima dalla partita che interessa più al gubbio, la pistogliese non va oltre il pareggio contro l'Ancuna. In vantaggio al venticinquesimo gli arancioni con un rigore trasformato da Di Bari. Al trentaduesimo i locali sfiorano il raddoppio con la traversa che viene colpita da Romeo. Ma nella ripresa arriva il pare di Marchigiano al sessantatresimo con l'Isa di testa, che sfrutta a dovere un assist di Bondi. Ancora rimandata la vittoria perché la pistogliese non vince dal 22 febbraio scorso, ossia dal 2-1 al Follì. Così la squadra del Tecnico Sottile fa solo un piccolo passo in avanti perché resta sempre nel play-out, raggiungendo il quintultimo posto a 35 punti, in compagnia del Zavona. Anche se i toscani in realtà devono recuperare ancora una partita in casa contro il Santo Arcangelo, che si giocherà mercoledì 15 aprile. L'altro recupera l'infrasettimale di alta classifica, invece ha visto pareggiare la Reggiana contro il Pisa per 1-1. Apre Misuraco al settantatuesimo e risponde Pekovic all'ottantatuesimo. Pekovic non è allenatore ex Lazio, ma è un giocatore. Tornando al gubbio, si evidenzia che le ultime cinque giornate che gli interessano la formazione dei recordi sono da trailing. Si parte domenica prossima contro il Zambarino, che è ultimo in classifica, ma la partita, come è facile immaginare, nasconde molte, molte troppe insidie. Per un semplice motivo. Sulla carta, se arrivano i tre punti, possono sembrare una cosa scontata, mentre in caso di sconfitta, facendo i dovuti scongiuri, la situazione si potrebbe deteriorare a livello psicologico. Per tanto è categorico far risultato in terra San Marinese, perché al di là della classifica il gubbio deve fare dimenticare in fretta ai suoi tifosi la brutta figura immediata contro l'Ancuna. Far risultato risulta basilare, anche in virtù del fatto che poi ci sono due sconti diretti per la salvezza. Domenica 19 aprile, infatti, sarà ospite in terra Umbro, in primo luogo, il Santo Arcangelo, che non è più quello dell'andata, dove il gubbio si impose per 2-0. Ha scalato posizione, adesso è fuori di punti dai pre-out. E tra l'altro è nata dall'ex tecnico di risorso blu, Agatino Guttone. Subito dopo il gubbio farà visita alla pistogliesi, che impina lotta per la rea salvezza, come già citato. Poi le ultime due giornate invece prevedono il match in casa contro la propria cenza che è impiegata nel play-out e poi si chiude a maggio in trasferta contro il Grosseto, che in classifica si trova attualmente un punto solto al gubbio, 4-38 punti. Insomma, la formazione da Cori da questo momento alla fine del campionato dovrà affrontare tutti gli avversari che sono in lotta per la salvezza. E da questo momento in avanti questa squadra non fa autorità molto grotta. I mostrati dei sapersi militari sul campo alla salvezza perché ormai gli alibi o le scuse di dito che ne conseguono non avranno più giustificazioni assolutamente. Notiziario, il difensore gruppo è tornato ad allenarsi con il gruppo, anche se sta facendo un lavoro differenziato. Ma non ce la farà per San Marino, perciò il suo rientro è previsto per la parita interna contro il Sant'Arcangelo, salvo colpi di scena. Ancora out invece l'esterno sinistro Marchiondi per l'infortunio. Il centrocampista Casiraghe è squalificato. Bene, se andiamo a leggere la notizia del 10 aprile che è un piccolo Amarcord di circa 5 anni fa, lo ricordo molto molto bene, grande gubbio all'epoca. Andiamo a leggere. L'ultima volta a San Marino è il 13 giugno del 2010 e il gubbio fu seguito dal 2624 a tifosi e gubbini. Era la finale di ritorno del playoff e quella squadra del Tainer Torrente si impose per 2-0 con le reti di Marotta su rigore procurato da Casoli e il gol della doppia dello stesso Casoli. E così arrivò la conquista dal C1. Ricordiamo tutto con un diretto protagonista, cioè con Giacomo Casoli e il gubbino che ora si trova al comodo, di Lone A, Lega Pro. Quali ricordi di quel fatidico match? Una giornata di lei indimenticabile per tutti gli gubbini che erano la presenti. Rimarrà sempre un ricordo speciale. Pure io nella scorsa stagione sono tornato a San Marino con la maglia da Cremonici. E c'era anche Mister Torrente, poi Pascolini e Mengoni. Per noi resta uno da stadio diverso degli altri perché era una partita che non si dimenticherà mai e per me che sono i gubbini è stato il massimo. Degli episodi chiavi cosa ricorda? Mi ricorda il gol del 2-0 perché ho ancora in mente un flash. Appena ho segnato sono andato ad assultare davanti alla curva ed era qualcosa di incredibile perché di gubbio c'era tantissima gente. Penso che gubbio non abbia mai portato tutta quella gente in trasferta. E mi sono infatti... Ha citato il gol che fu realizzato in contropiede su Assis di Marotta. Ad un certo punto sembrava che calciasse di destra invece Castro li ha sprazzato tutti infilando la palla in rete di sinistro. In pratica cosa è successo? Sì è vero, in pratica ho notato che con la corda del lock stava arrivando il difensore e mi sono messo davanti. Così mi è rimasto il sinistro per calciare e venne fuori una traiettoria molto precisa. Ad oggi molti dicono che quel tendente di attacco, ovvero Castro, Marotta e Gomez poteva fare bene pure in serie B con il gubbio. Ah, io direi molto, molto sì. Ci salvavamo proprio con 60 punti. Si trova d'accordo? Palloni in umili, eravamo una squadra forte. Poi è vero che davanti al tendente giocavamo a memoria, ma senz'altro fu merito del mister che ci riettava in movimenti. Di sicuro quel tendente dei playoff fece la differenza. Guarda caso Gomez è in serie A, Marotta ha fatto gol in giro da qualsiasi parte. Parlava del tecnico corrente, perciò qual era il segreto di quei successi? Dicevamo che noi eravamo un grande gruppo di bravi ragazzi, davamo tutto per il mister, per la gente. Torrente è un grande allenatore e lo rimostro in numeri. A parte la parentesi sfortunata del Cremona, ma bisogna ricordarsi che quando fu esonerato la cremonese era già dentro ai playoff. Le motivazioni talvolta venivano anche da sé, perché vedevi tutta quella gente che ti seguiva. D'altronde facevamo un ottimo calcio, giocavamo benissimo e credo che quel campionato potevamo perdere solo noi. Il gol più bello con il Gubbio? Ricordo volentieri il gol a Norcerina. Però credo che il gol più bello ed emozionante è quello segnato per appunto a San Marino ai playoff. È stato anche il mio ultimo gol di Rosso Blu, e quindi c'è stata un'emozione particolare. Ma non dimentico nemmeno il gol a Alfano ai playoff, perché quello si poteva considerare come un derby. Poi il caso l'ha avuto esperienze sia in Serie C1 che in Serie B. Un piccolo accenno? Esperienze di ripositiva, la Spezia ha vinto un campionato, la Coppa Italia e la Supercoppa. Adempolo ho avuto la fortuna di giocare con calciatori importanti e infatti ora sono in Serie A. A Cremona sono andato per il mister Torrente, squadra forte, ma l'ho andata benissima. Ed ora come? Mi trovo bene, società seria, siamo un'ottima squadra, però purtroppo nell'ultimo partito c'è stato un po' di rappannamento. Finché c'è la matematica cerchiamo di centrare playoff, ma è dura. E' il Gubbio attuale? Lo seguo spesso, conosco l'ovviso con cui ho giocato assieme a Cremona. Ho visto che c'è stato un campionso societario e si stanno facendo le cose sul serio. La salvezza è la portata di pensare a Gubbio senza un campionato professionistico? Mi sembra irrealistico, voglio il bene del Gubbio, perciò lo spero. Bene, si conclude qui anche questa odierna puntata. Appuntamento a domani e sempre, 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 forza Gubbio!